Ristoranti e bar chiusi, la morsa del decreto riduce al limite le possibilità di assembramenti ma lo stesso decreto permette lo svolgersi dei mercati cittadini, tradizionali luoghi di incontro delle comunità una decisione che stride con l'obbligo di restare a casa Avremmo servito otto persone, non di più Le disposizioni sono giuste, se non ci proteggiamo così è che va a discapito del nostro lavoro perché noi non siamo assistiti da nessuno se oggi non ho lavorato non sono tutelata da nessuno le mie scadenze devo ottemperarle ugualmente Secondo il mio punto di vista dovevano fermare proprio tutto per una 15 giorni ad esempio a sabato siamo chiusi, non ci fanno fare attività non concepisco perché il centro commerciale si è aperto o tutti o nessuno Gente non c'è, spaventata, non va bene sono dell'idea che dovrebbero fermare tutto completamente per salvare questa situazione La soluzione forse è la migliore col senno di poi chiudiamo tutti ma tutti e basta 15 giorni forse ne veniamo fuori I guanti ce li ho disinfettante ce li abbiamo perché abbiamo paura tutti per cui è logico che il nostro cliente si comporti come noi e se può non esce Da piano gentile come a como la voce degli ambulanti è unanime è meglio chiudere per 15 giorni una ipotesi che trova pieno sostegno della Confesercenti è giusto fin quando non si uscirà dall'emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del coronavirus spiega al presidente Claudio Casartelli chiudere i mercati, mercerie di Como e provincia lasciando operativi solo i banchi che vendono generi elementari i sindaci hanno il potere derivante dal decreto del presidente del Consiglio di emettere ordinanze in questo senso ci aspettiamo a questo punto due cose spiega il presidente di Confesercenti Como la prima che l'ordinanza di chiusura comprenda anche i centri commerciali affinché la salute sia tutelata a 360 gradi e non si crei un insano vantaggio per loro dalla chiusura dei mercati la seconda che il governo disponga una moratoria di tutti gli addempimenti fiscali perché possiamo anche fermarci per tutelare la salute dei cittadini ma senza far fronte a tasse e costi fissi che finirebbero con l'ammazzare le nostre imprese intanto la giunta del Comune di Como che ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria ha disposto la proroga della prima data per il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico al 30 aprile e la proroga della data della seconda scadenza del 30 giugno al 31 luglio invariata invece la scadenza dell'ultima rata al 31 ottobre grazie a tutti